questo è un altro querello di questa pittrice questa debra che sto studiando in questo caso si tratta di ciglamini però purtroppo in questo video più che un video è una serie di errori la prima pittura che ho fatto di questo di questi ciglamini mi sono accorto alla fine del video della fine della pittura e del video che in maniera cioè in avvertita mente la macchina era terrata per riprendere in bianco e nero quindi questo video e non potrò farvi vedere tutta la pittura perché poi ho rifatto il querello c'è stato un altro errore comunque il primo acquerello di questi ciglamini questo è il risultato la fotografia uno è sempre in tempo di farle il video ormai quello che è fatto è fatto questo è il risultato e quindi come vi dicevo dico beh adesso rifaccio il video rifaccio un'altra volta l'acquerello e quindi di nuovo ho bagnato la carta e per creare appunto delle sfumature poi di nuovo questa volta colori è cominciato appunto con gli steli insomma devo farmi perdonare questa volta perché è successo che la ripresa si è fermata perché le batterie della videocamera erano finite non me ne era accorto quindi io proseguito la pittura fino arrivare a compimento e questo è il secondo in secondo e ma come l'ho fatto ero un po molto arrabbiato perché il primo era andato così male che era bianco e nero insomma non l'ho fatto neanche tanto bene e infatti il primo insomma era più accurato insomma sono cose che succedono ci vediamo al prossimo acquerello ma non farò più questo soggetto sono stanco ne farò un altro